Qual è l'importanza del registro nazionale sulle malattie rare? Quali sono le informazioni che ci dà questo documento così importante? L'abbiamo chiesto al dottor Marco Silano, direttore del Centro Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. L'abbiamo incontrato qui a Roma presso la Fondazione Don Luigi Sturzo in occasione della presentazione di Explorare 2.0. Un'iniziativa molto bella realizzata congiuntamente da Sencora Farmalex, una società di consulenza impegnata nelle scienze della vita e da Ispor Italy Rom Chapter. Dottor Silano, in tema di malattie rare il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità è molto importante. Per esempio, voi gestite, avete iniziato a realizzare dieci anni fa, il registro nazionale sulle malattie rare. Quali sono le informazioni più importanti degli ultimi aggiornamenti? Cos'è che vuol mettere in luce? Sì, il registro nazionale delle malattie rare è uno strumento di sorveglianza epidemiologica delle malattie rare, sia nel loro insieme, sia per gruppi di insorgenza e di sintomi, che il Centro Nazionale delle Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità sta implementando ormai per legge da una decina di anni. I dati dell'ultimo aggiornamento elaborato ci riportano che in Italia al momento esistono circa 80.000 pazienti con malattie rare di cui c'è un incremento da un anno all'altro, almeno nel registro che poi naturalmente non corrisponde però a un incremento reale nella popolazione, di circa 20.000 pazienti all'anno. Di questi pazienti conosciamo oltre naturalmente il genere, l'età, il tipo di patologia naturalmente divisa per gruppi e il sistema sanitario regionale o provinciale a cui fanno riferimento. Senta, quando si parla di malattie rare in Italia il numero che sento più frequentemente citare è quello di 2 milioni di pazienti che sono colpiti. Il registro invece ne monitora 80.000. Ecco, diciamo, i due dati possono convivere? Innanzitutto il Registro Nazionale Malattie Rare attinge i dati dai registri regionali e provinciali, ma solamente per quelle malattie rare che hanno un codice di esenzione e che non sono tutte. Mentre invece il riferimento ai 2 milioni di pazienti con malattia rara riferisce ai pazienti che sono colpiti da una malattia rara e che comprende tutto il gruppo di malattia, non solo quelle malattie che hanno un codice di esenzione per cui quindi è possibile tracciarne tramite il registro l'epidemiologia. Senti, i dati del registro, del vostro registro, possono essere utilizzati anche per monitorare la spesa farmaceutica? Certo, perché conoscendo il numero di pazienti che sono affetti da una determinata malattia rara è possibile quindi ricostruire qual è la platea che ha bisogno di un determinato farmaco sapendo quant'è il costo annuo è possibile ipotizzare e almeno avere un'idea dei costi della prescrizione farmaceutica di un farmaco.